Lei ha bagaglio a me, no? Solo lui. Hai ancora lo spiritoso e ti pucio la bocca con le ucchie. Le cinture, per favore. Ah, grazie. Potrei avere un cuscino nella coperta? Certo. Ecco. Grazie. Signore e signori, ci stiamo preparando al decollo. Vi preghiamo di accertarvi che il bagaglio a mano sia riposto nel bagagliaio sopra i vostri sedili, di allacciare le cinture di sicurezza e di non fumare. Una volta raggiunta la quota di crociera, saranno servite bevande offerte dalla compagnia. E un po' più tardi la cena. Subito dopo verrà proiettato il film. Le assistenti di volo sono Susan e Lance e io sono Vicky e cercheremo di rendervi il viaggio il più piacevole possibile. Grazie. Scusi, quanto dura il volo? Contiamo di arrivare a Valverde in undici ore circa. Grazie. Ah, per favore, non disturbate il mio amico, è stanco morto. Scusate se non ho bussato. Scusate se non ho bussato. Cocaino. Dov'è Jenny? Fottiti tu e lei. Non ho sentito. Te lo dirò più forte. Fatti fottere. Senti, la tua fedeltà è commovente, ma in questo momento non è la cosa più importante della tua vita, perché la cosa più importante è la legge di gravità. Per onestà devo confessarti che questo è il mio braccio più debole. Non puoi ammazzarmi se vuoi sapere dov'è tua figlia. Allora dov'è? Io non lo so, ma lo sa Cook. Ti porto dove devo incontrarlo. Non mi ci porterai. Ma perché? Perché so già dov'è. Ricordi quando ti ho detto che ti avrei ammazzato per ultimo? Sì, l'hai detto, l'hai detto! Ti ho mentito. Sono un amico di Sarah Connor. Mi hanno detto che è qui. Potrei vederlo? No, non può. Sta facendo una deposizione. Dove sta? Senta, ci vorrà un bel pezzo. Se vuole aspettare c'è una panca laggiù. Aspetto fuori. Senta, ci vorrà un bel pezzo.